Buon bello! Matteo, signor Mattiasi Basta, con un gioco della scopata, Michele Sanzani per la via Mazzosazzo, la parola del Viglio Vizio Verona, ma la cammina di questa stupenda del Vipo che è la Viglio G2, si lancia veloce nel Viglio Viglio, Matteo se libera per il Viglio Vizio Verona.